La nuova Spinazzola agli ultimi respiri batte il Bitonto 0-2 trovando una vittoria esterna dopo 70 giorni. La cronaca. Al quinto minuto Lavoratti scodella da destra e rovesciata artistica di Sene che fa la carezza all'incrocio all'undicesimo destro al volo di Fucci vicino risponde a pugni uniti. Alla mezz'ora ancora un cross di Lavoratti incornata troppo centrale di Bozzi. Dopo 5 minuti punizione insidiosa dai 30 metri di Petitti che termina fra le braccia di Liso. Nella ripresa al nono bella combinazione nero-verde e mezzo lob pretenzioso di Petitti dopo 3 minuti Bitonto vicino al gol. Punizione velenosa di Petitti. Liso in tuffo ribatte sulla ribattuta Bozzi spreca. Allora di gioco corner da sinistra e inzuccata di Sene fuori di poco Bitonto in 10. con l'espulsione di Tedone appena entrato per l'ammonito Cantalice. Al ventottesimo botta centrale di Cappellari in presa vicino. Poi all'ottantesimo doppio miracolo di vicino sul rasoiata di Caruso e piattone di Danielli. Doccia gelata all'ottantacinquesimo. Siluro dal limite di colonna e sfera all'incrocio. 0-1 per lo Spinazzola. Al quarto di recupero. errore clamoroso della difesa bitontina in uscita e rete facile facile di De Marinis. Modugno termina 0-2.